Oggi vi parlo di una trilogia, tre commedie che forse non conoscete, vi faccio scoprire io, oppure se le conoscete già, ovviamente, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Prima di parlare di questi tre film, però è molto importante chiedervi due cose. La prima, lasciare like, ragazzi, molto semplice, è un like, è un bel feedback per il canale, serve a supportarlo, è gratis soprattutto, quindi fatelo subito, cliccate like e poi iscrivetevi. Se ancora non l'avete fatto e qui sotto vedete il tastino iscriviti in rosso, cliccateci sopra, molto semplicemente, fatelo diventare grigio e anche in questo modo supportate il canale. Allora, parliamo di questi tre film. Trilogia, non è proprio una trilogia perché non sono legati tra loro questi tre film, ma sono tutti diretti dallo stesso regista. Sto parlando di Leone Pompucci, regista italiano, classe 1961, che ha al suo attivo quattro film da regista, film al cinema. Perché poi Leone Pompucci è anche un fotografo, è anche un regista di produzioni televisive, se non erro, ha curato la direzione di alcuni episodi della serie TV Don Matteo. Quindi comunque ha fatto e fa sicuramente tanto al cinema realizzato solo, mi viene da dire, quattro film solo dal momento che il suo esordio come regista al cinema è dadato 1993, ma ha realizzato solamente quattro film e tra l'altro tra il terzo e il quarto sono passati, pensate, ben 14 anni. L'ultimo è del 2014, Leone nel Basilico. Io questo film non l'ho visto, quindi non ve ne parlo, ma vi parlo degli altri tre datati, 1993, 1995 e 2000. Tre film che mi piacciono tanto, tre film nei quali mi sono imbattuto per caso, e credo di poter dire senza sbagliare che in tutti e tre i casi mi ci sono imbattuto sullo stesso canale, nella stessa modalità di orario. Sto parlando di Rete 4. C'è stato un periodo, quando io ero bambino, ragazzino, non so se funziona ancora così Rete 4 perché non vedo la TV da una vita, che o d'estate, di solito nel sabato e domenica d'estate, primo pomeriggio, quindi due o tre del pomeriggio, oppure in generale durante l'anno di sera tardi, quindi dopo le 23 e mezzanotte, trasmetteva questi film, film italiani e veramente ho un ricordo seminitido di tutte e tre queste pellicole che magari ho beccato per la prima volta proprio in queste modalità. Poi li sono andati a ricercare da appassionato e tutte queste cose qua, ho acquistato anche i DVD e li conosco bene. Ve ne parlo molto semplicemente, se li conoscete già me lo dite qui sotto e mi dite cosa ne pensate, oppure come spesso dico quando cito pellicole che magari non avete visto, se riuscite a procurarveli andategli a dare un'occhiata così potete tornare voi qui sul canale e dire la vostra. Cominciamo da Millebolle Blu. Vi parlerò poco di questo film rispetto agli altri due perché lo ricordo un po' meno e dei tre è quello che mi piace un po' meno. Però ve lo devo assolutamente citare perché Millebolle Blu è l'esordio alla regia di Leone Pompucci 1993 e con questo film Pompucci vince il Davide Donatello come regista esordiente. Quindi un film anche importante che in qualche modo apriva la strada al regista romano per una carriera con più film all'attivo. Quindi vi ripeto, inspiegabilmente non so perché, però alla fine questi sono. Questo film si svolge tutto in un condominio a Roma nell'estate del 1961, tante storie tutte diverse tra loro, tra gli abitanti di questo condominio, alcune storie comiche, altre un po' più grottesche, altre drammatiche, sentimentali, tante storie diverse, tutte unite sicuramente dall'ambientazione appunto questo condominio romano e dall'eclissi, l'eclissi di sole che ci fu in quell'estate. Infatti anche la copertina, vedete, si vede la locandina, scusate, si vede il condominio e appunto l'eclissi di sole. Questo è un film che comunque vi consiglio di vedere perché ci sono dei momenti molto comici e divertenti ed è appunto l'esordio alla regia. Poi veniamo al 1995, il secondo film di Leone Pompucci, quello che secondo me è il migliore, quello che mi piace di più, non il più divertente perché secondo me quello che verrà dopo e tra poco vi racconto è ancora più divertente e mi fa ridere di più, però questo è il più bello. Camerieri, 1995, cast eccezionale per questo film, Paolo Villaggio, Diego Abbatantuono, Marco Messeri, Antonio Catania, ma ci sono anche Antonello Fassari, Carlo Croccolo, Regina Bianchi, grandissima Regina Bianchi, attrice che ha lavorato anche con Eduardo De Filippo e Ciccio Ingrassia in quello che è stato, credo, l'ultima sua apparizione cinematografica o una delle ultime. Un cast importante per un film molto bello, molto carino, anche molto amaro, un po' acido, ecco, voglio definirlo così. I protagonisti sono questi quattro, questi quattro camerieri, in realtà il personaggio di Antonio Catania è il cuoco della situazione, però qui nella locandina viene ritratto come cameriere, quattro personaggi, insomma, sgangherati, tutti accomunati dall'avere avuto un passato migliore rispetto al loro presente, Paolo Villaggio è stato un grande cameriere che ha servito grandi personalità mondiali nel suo passato, Diego Abbatantuono è stato un ex calciatore, Marco Messeri è stato un musicista, diciamo, un bravissimo suonatore di fisarmonica, il personaggio di Antonio Catania, ecco, il cuoco in questo caso, se non sbaglio, non viene approfondito tanto, però viene fatto capire nel film che è abile nel suo mestiere, ma che poi ha perso anche la passione nello stesso, nella condizione attuale. Questi quattro sono i camerieri di questo ristorante, che si chiama Eden, di proprietà di Ciccio Ingrassia, in questo caso, vecchio, stanco, che ha deciso di vendere, perché, insomma, il locale è fatiscente, i costi sono alti, non si può andare più avanti, e ha deciso di vendere. Ha venduto, ha venduto questo ristorante Eden a una famiglia di immobilieri, gli Azzaro, che ci vengono presentati nel film come un'importante famiglia, molto ricca, e questo locale viene acquistato dalla famiglia Azzaro, viene acquistato dal capo famiglia, dal vecchio, appunto, Azzaro, interpretato da Carlo Croccolo, per essere affidato nelle mani di suo figlio, interpretato da Antonello Fassari. Prima, però, di, magari, eventualmente, chiudere tutto, sgombrare i locali, e far diventare il ristorante Eden un nuovo luogo di esposizione per i loro mobili, decide la famiglia Azzaro di organizzarci le nozze d'oro del capo famiglia. Carlo Croccolo, sua moglie, interpretata da Regina Bianchi, che, tra l'altro, è un personaggio, non questo di Regina Bianchi, ma il capo famiglia, Carlo Croccolo, spreggevole, burbero, che si porta alla sua festa per le nozze d'oro, anche l'amante, interpretata da Sandra Milo, decidono di organizzare lì le nozze d'oro, e quindi di dare questa ultima giornata lavorativa, diciamo così, al ristorante e ai camerieri, che, però, sono, in qualche modo, invogliati dal fare un servizio memorabile, perché? Perché il giovane, in questo caso Azzaro, potrebbe non farci diventare, far diventare il locale la nuova esposizione di mobili, ma continuare nella ristorazione, e loro provano a tenersi il posto, provando a offrire una grande prova, no, da camerieri. Non sarà propriamente così, anche perché la ruggine che c'è tra i personaggi, l'odio, l'amarezza che traspare dai personaggi, renderà le cose molto complicate. C'è un finale un po' scontato, se vogliamo, per un discorso che ci sarà durante tutto il film, ma poi, insomma, se lo vedrete, lo capirete da soli, però, secondo me, è un gran film, con delle belle interpretazioni, soprattutto quella di Paolo Villaggio. questo è un film che vi consiglio veramente tanto. Così come vi consiglio il terzo film in questione, terzo film di Leone Von Pucci, Il Grande Botto, film del 2000. Anche questo con un bel cast, è Alessandro Di Carlo, Emilio Solfrizi, Carlo Bucci Rosso, e Gennaro Nunziante. Gennaro Nunziante, come attore, ha preso parte a poche pellicole, ma è una personalità importante del cinema nostro, perché è stato il regista di tutti i film di Checco Zalone, se non sbaglio, però, tranne l'ultimo Tolotolo, quindi una personalità importante. In questo caso, però, fa l'attore, insieme a questi c'è anche Claudio Amendola, ed è la storia di questi cinque amici, appunto, loro quattro, più Claudio Amendola, sono tutti amici di Ostuni, anche in questo caso, come i protagonisti del precedente film, sono, diciamo, sgangherati, tutti non felicissimi della loro vita, che si ritrovano ogni settimana per giocare a calcetto e giocano sempre la schedina del Super Enalotto. Che cosa succede? Già vi ho messo la trama in questo senso, il titolo è Il Grande Botto, che cosa succede? Vincono, tra l'altro ci sono anche nella locandina i numerini sotto, vincono, vincono 86 miliardi di lire, c'erano ancora le lire, era il 2000, c'è un problema, c'è un problema però, che questi amici avevano affidato la schedina del Enalotto al personaggio di Claudio Amendola, che è un ex calciatore, quindi anche in questo caso un punto di contatto con Camerieri, in quel caso era interpretato da Abba Tantuono, in questo caso da Claudio Amendola, affidano la schedina a lui, se non sbaglio dicendo i soldi vanno dove stanno i soldi, perché loro lo credono ancora ricco da ex calciatore, uno che ha una bella vita, in realtà durante il film poi si scoprirà che non è affatto così, anzi, è quello forse messo peggio di tutti loro, però il problema è che hanno affidato la schedina a lui, viene fuori che hanno vinto 86 miliardi di lire, ma questo amico non c'è più, si è dato alla fuga, è scomparso, dove è finito, è scappato con gli 86 miliardi, inizia quindi nel film una rincorsa a questo amico, a bordo di uno scuolabus, di proprietà di uno dei quattro, di Alessandro Di Carlo, dove praticamente da Ostuni risalgono fino a Milano, andando a ripercorrere le tappe della carriera calcistica del personaggio di Claudio Amendola, quindi andando proprio nelle località dove lui ha giocato per vedere se c'è qualche contatto e se magari lui si è rifatto vivo con qualcuno del suo passato. Verranno fuori tutti gli equivoci e tutte le situazioni che loro non potevano immaginare del loro amico, fino poi alla conclusione, che non vi svelo, ma vi dico di guardare veramente fino alla fine, perché poi c'è la scena finale, ambientata in un luogo mistico, diciamo così, anche per gli appassionati di calcio, che secondo me è molto molto bella. Questo film mi fa ridere tanto, questo è quello che mi fa ridere di più, anche se il mio preferito resta Camerieri, però vi consiglio anche Millebolle Blu, ditemi qui sotto se avete già visto questi film, oppure andate a vederli in qualche modo e poi venite qui sotto a dirmi la vostra. Ancora vi chiedo di lasciare like, di iscrivervi e ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.